Leggio, preparare bene gli studenti agli esami. Mente e corpo devono essere in buona salute. Siamo ospitalieri? Venga, su, venga con me. Ti segua. E se qualcosa non va, è opportuno rivolgersi al medico. Siamo ospitalieri? Prego, si accomodi. Un giorno... Allora, gli insegnati mi dicono che ha spesso delle richieste. Mi sono dato aiuto. Sì, me ne parli un po'. Ho bisogno di andare in bagno. Devo andare in giuntamente in bagno. Mi scusi, professore. Ho seduto. Non posso stare seduto, mica mi scusa. Si metta seduto. Ma devo andare in bagno. Si metta seduto. Ma devo andare in bagno. Devi uscire per forza. Sì, sta male. Sta male pure oggi. Signor ospitalieri. Devo andare in bagno. Passeremo ad interrogarvi. Mi sembra che il signor ospitalieri abbia bisogno di... Sì, non bisogna. Allora, guardi, facciamo subito lei e poi... Ma non ce la faccio, ho bisogno adesso. Poi, un giorno o l'altro, se avremo tempo, faremo un mintaggio del momento in cui è stato in classe e quello in cui invece è stato in bagno. Tireremo una lina e faremo un grafico. Va bene. Quando vuole. Ok. Una volta constatato che il paziente potrà affrontare serenamente gli esami... Il dottore congeda Giuseppe. Ora sto bene. Però forse dovrei andare a trovare in bagno. Grazie. Grazie.